Io ce provo tanto non ci abbiamo più un cazzo da perde Dobbiamo assolutamente segnare Visto che ogni volta che registro esce fuori in gol Vediamo sto calcio d'angolo per l'Italia UEFA Nations League Italia-Portogallo Vaffanculo Apparato Dicevo ci serve assolutamente un gol Perché dovesse finire 0-0 Ovviamente alle Final Four Ce va il Portogallo e non ce va l'Italia Ciao, bella a tutti da me Bella partita dell'Italia all'inizio Siamo partiti nettamente meglio del Portogallo Li abbiamo schiacciati nella loro metà campo Tant'è che il primo tiro del Portogallo E il secondo in rapida successione Sono arrivati solo al minuto 70-72 Questo è fallo e vaffanculo Detto questo Dicevo molto meglio la partita dell'Italia nel primo tempo Abbiamo avuto un paio di occasioni da rete Fitta rete dei passaggi Gioco anche abbastanza rapido Diciamo capacità di arrivare anche alla conclusione Ma ci è mancata un pochino di precisione negli ultimi 15-18 metri Nel secondo tempo come è normale Che si ha un po' l'atteggiamento del Portogallo differente Sono riusciti a tirarsi in avanti con il pressing E quindi ci hanno messo in difficoltà Un po' anche diciamo la nostra stanchezza fisica Appunto il Portogallo un pochino è riuscito a sgrassarsela meglio Tant'è che sono riusciti a mantenere finora il risultato di 0-0 Che li porterebbe direttamente alle Final Four No! La riprende lui È nostra È rimessa al fondo e vaffanculo due volte A noi diciamo che oggi sta partita Un pareggio e una sconfitta Mi sa che l'ho detto già prima Non sarebbe cambiato assolutamente nulla Di conseguenza Secondo me Dobbiamo provarci fino alla fine Ma vedo che manca proprio il fiato Roberto Mancini i gambi li ha fatti Però Non lo so perché Abbiamo dato tutto prima Siamo stati chi lo sa sfortunati Forse ci è mancato quel qualcosa in più Però A mio parere Meritavamo di passare un vantaggio E di vincere la sta partita Vaffanculo Solo che a noi 0-0 Ultimamente ci condannano Agli mortacci nostri Va bene? Vediamo Perché manca meno di un minuto Ragazzi io non ci credo più Sto a provare a Gufalla Ma tanto quando L'interesse è dalla mia parte Non arriverà mai il gol Tutto al più potrebbe segnare un gol al Portogallo Attenzione! Mamma mia regà Che palle Che palle Tanto ormai a retrocedere Non possiamo più retrocedere Ripeto ma lo sapevamo già prima Perché allo scontro diretto con la Polonia Anche qualora dovesse vincere L'ultima partita col Portogallo Siamo in vantaggio noi Quindi Dovevamo giocarla un pochino meglio Forse Che cazzo Vedevo di Fatto sta che mi rote il culo Perché C'avevamo possibilità Dovevamo vincere 2-0 stasera E poi sperare nella partita Del Portogallo contro la Polonia Però intanto vuoi mettere Che almeno Fai del tuo Fino all'ultimo Cerchi di essere Artefice del tuo destino E poi come va Questi stanno a ripartire in contropiede Siamo pure 4-5 contro 3 No Buoni regà Buoni regà Tanto non cambia più un cazzo Però ormai è annata Tengono il possesso loro La partita è finita I minuti sono scaduti A momenti ammazzano Uno che stava girato A guardare gli spalti Per il lavoro Ma va bene Mi fate sapere Che ne pensate nei commenti Tanto è bella cannata Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al mio canale Qualora non lo avesse ancora fatto Vaffanculo È finita